Per le numerose richieste di visite guidate, in particolare da parte delle scuole, il Museo Diffuso della Resistenza ha prorogato fino al 1 luglio la mostra «Qui non ci sono bambini, infanzia e deportazione», i disegni di Thomas Geve sulla vita nel lager di Auschwitz. La mostra, allestita per la prima volta in Italia, presenta le riproduzioni di 50 dei 79 disegni realizzati da Thomas Geve a 14 anni, subito dopo la liberazione del lager nazista. L'iniziativa è stata realizzata dal Museo in collaborazione con il Consiglio regionale del Piemonte. In cinque mesi l'esposizione allestita in Corso Valdocco IV a Torino è stata visitata da 4.000 persone, tra cui ben 1.600 studenti.